Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Manuel Bortuzzo ha conquistato la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi 2024. Dopo anni di duro allenamento, il nuotatore è riuscito a coronare il suo sogno di partecipare all'importante competizione sportiva. Nella gara dei 100 metri rana ha ottenuto un risultato straordinario, aggiudicandosi la medaglia di bronzo. Questo successo ha rappresentato per lui un traguardo importante, più considerando il grave incidente che lo ha costretto su una sedia a rotelle. La reazione di Manuel Bortuzzo è stata di grande gioia e soddisfazione. «Questa medaglia per me è come un oro, era già tanto per me essere qua», ha dichiarato emozionato dopo la vittoria. Tuttavia, non tutti hanno condiviso la sua felicità. In particolare la sua ex fidanzata, Lul Selassie, ha mantenuto un silenzio di tomba in seguito alla vittoria di Manuel. La coppia si era lasciata in modo definitivo e burrascoso solo alcuni mesi prima, e questo potrebbe aver influito sul comportamento di Lul. Nonostante il silenzio di Lul, numerosi amici e personaggi famosi hanno voluto congratularsi con Manuel per il suo successo. Aldo Montano, Gianmaria Antinolfi, Joss Quillo, Alex Belli, Alessandro Basciano e Manila Nazzaro hanno inviato messaggi di affetto e sostegno al nuotatore. La sua vittoria è stata accolta con entusiasmo e orgoglio, da coloro che lo conoscono e lo apprezzano. Dimostrando che Manuel Bortuzzo acquisisce un posto speciale.